Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo BtQ, questo nuovo video, naturalmente come sempre ricordo di suggerire il like, di iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale Telegram, in tantissimi mi avete iscritti a riguardo di questo progetto, BtQ, Manalite, Elex andranno a vedere tutto quello che sta venendo, ovviamente se avete avuto i progetti scrivetemi sempre in DM su Instagram, su Telegram, su TikTok, andrò a selezionare quelli che sono i progetti più interessanti. E per cui, iniziamo, subito. Per cui andiamo a vedere Bitcoin Manitrix, perché potenzialmente questo progetto potrebbe letteralmente rivoluzionare quello che il mondo di Bitcoin, abbiamo visto come esattamente 10 anni fa, ok, grazie ai rendimenti Bitcoin si è fatto circa un 27.000%, ok, che non è assolutamente male. E questo potrebbe essere un progetto che, non dico che farà i numeri di Bitcoin, perché la vedo un po' dura, eh, onestamente la vedo un po' dura, però potrebbe far bene. Quindi me l'avete chiesto più volte, io rispondo e andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo in questo momento. E guardate qui, sono stati raccolti 9,7 milioni di dollari, che non sono pochi, eh, a livello di liquidity. E, tra l'altro, il prossimo round andrà a scadere quando saranno raccolti 10,3 milioni di dollari, secondo me. Questo target sarà raggiunto in maniera abbastanza facile, manca un giorno e 22 ore, quindi, insomma, poi il prezzo andrà lentamente a lievitare. Andremo a vedere anche dopo come ne giro, ok, di pochi mesi. Se comunque il prezzo ha già subito importanti variazioni, vi ricordo che se volete acquistarlo, è possibile acquistarlo o attraverso Ethereum, o USDT, o attraverso carta. Io vi lascio sotto il link della descrizione, così non incorrete assolutamente in scam e sapete che questo progetto, ovviamente, è un progetto ancora a livello teorico, perché non ha dato vita a niente, però andremo poi a vedere la roadmap. E, in questa fase di mercato, diciamo, in seguito allo Skyrockets di Bitcoin, è stato interessante che andare a valutare eventualmente un progetto di questo tipo. Ovviamente, come sempre, ricordo che non sono i corsi finanziari, i corsi trading e questi progetti sono super rischiosi, perché si trattano di pre-sale, quindi io vado a prendere quelle che sono le pre-sale un po' del momento e vi vado a dire quelle che è la mia. Ora, dove è la rivoluzione? Noi sappiamo che Bitcoin aggira, utilizza, ok, il proof of work, cioè il classico utilizzo dei miners che vanno a estrarre Bitcoin, ovviamente devono sostenere grandi costi, e diciamo qui c'è l'introduzione del cloud mining. Cloud mining andrebbe letteralmente, ok, a risolvere in futuro quello che è il problema dell'appunto mining di Bitcoin, che implica numerosi costi, e poi c'è anche l'opportunità di mettere in stake, ok? Questi Bitcoin miners, quindi vedremo quello che succede in futuro, però potrebbe essere davvero, ok, un nuovo trend, che potrebbe esplodere soprattutto nel possible market, e che tra virgolette si potrebbe andare a cogliere, ok, in futuro. Ora vorrei darvi un piccolo, ok, quello che ci dicono loro, le ragioni per le quali letteralmente questo progetto potrebbe esplodere, ok, rispetto a Bitcoin. Ovviamente, primo, la capitalizzazione è molto bassa, avete visto la liquidity è di 9.7 milioni, in secondo luogo la facilità in ingresso, all'inizio, ok, utilizzare schede video, tutto ciò che ritiene, ok, richiede Bitcoin, per minarlo era praticamente molto difficile. Ad oggi, attraverso il progetto di Bitcoin Matrix, basta semplicemente, ok, tra virgolette, acquistare questo token, e si può utilizzare, ok, cloud mining di Bitcoin, quindi, e ricevere rewards in Bitcoin, quindi veramente un prodotto di pazzesco. Poi, l'efficienza dei costi, ovviamente noi abbiamo i costi legati ai cloud mining, sapete come in vari paesi si sono messi proprio su dei capannoni, ok, abbiamo visto anche come in passato i miners sono andati a vendere Bitcoin proprio quando stava a prezzi molto alti, perché ovviamente nel mentre vanno a sostenere i costi, e poi non c'è nessuna preoccupazione per rivendita, quindi loro dicono che c'è abbastanza liquidità, insomma, per poi rivendere i token. Questo lo vedremo, eh, perché ancora un progetto in via di sviluppo, ancora siamo in una fase pre-sale, quindi ricordo, fase altamente rischiosa, che mi raccomando. Dopodiché, andiamo a vedere un attimo quella che è un po' la situazione, soprattutto anche perché loro hanno dato vita a un harddop di circa 30.000 dollari, quindi, insomma, l'harddop potenzialmente è uno strumento molto interessante per pubblicizzarsi, quindi ovviamente qua giocherà anche di grande rilievo il marketing. E poi abbiamo le fasi cosiddette del progetto. Allora, siamo in questa fase ancora pre-sale, quindi stiamo ancora raccogliendo la liquidità, e poi successivamente ci dovrebbe essere il lancio. Lancio attraverso delle app, nelle quali appunto sarà possibile effettuare il cloud mining di Bitcoin, e tra l'altro loro parlano anche di listing su dei checks. Quindi vedremo quali checks arriverà a questo progetto, ovviamente se arriverà, perché, ragazzi, niente scontato in questo mondo, abbiamo visto progetti come tra l'unica classica, ed è veramente scammato, quindi pensate a una pre-sale che è potenzialmente molto più semplice. Giusto per dare un'idea, perché io sono chiaro con voi, però il presupposto è che ci sono. E poi ci sarà il lancio, il lancio che sarà possibile praticamente minare Bitcoin, minare è sbagliato, cloudare Bitcoin, potremmo utilizzare questo termine, attraverso anche lo smartphone, quindi sarà un qualcosa di pazzesco. E infine loro quello che si prediligono è addirittura le deduzioni di massa. Quindi vedremo un po' quello che succederà su questa pre-sale. La total supply è pari a questo numero, sono 4 miliardi, quindi insomma sono tanti, o che rispetto ai Bitcoin normali, e circa il 42-5% andrà per il mining di Bitcoin, il 35% nel marketing, quindi faranno grande campagne di marketing, il 12.5% per lo staking e il 10% per la community. Poi se volete andare a vedere quelle che sono le domande più interessanti, vi ricordo ancora una volta, vi lascio sotto il link in descrizione e andate a vedere letteralmente il progetto. Poi voglio mostrarvi anche quello che l'API sullo staking, lo stanno abbassando, ora comunque è il 68% ancora alto, diciamo che per una pre-sale, e tra virgolette è basso, cioè è alto, però per essere in pre-sale è basso, ok, perché abbiamo visto anche pre-sale dove danno il 300-400%, giusto per dare un'idea. e questo sarà il numero di Bitcoin Analytics che si andrà a raggiungere. La piena offerta sarà raggiunta a 4 miliardi nel settembre del 2025, quindi già quando potrebbe essere iniziato il bear market, il prossimo bear market, loro andranno a completare la supply intera. Però, vedendo che al momento comunque la supply è di 3.6 miliardi, diciamo più o meno ci siamo, quindi come i numeri secondo me è fortemente interessante. Dopodiché voglio mostrarvi quello che è il prezzo odierno, perché, non so se l'ho detto, però è di 1 centesimo e 3, quindi insomma, però ricordo l'offerta totale di 4 miliardi, quindi ci sta, ok, come prezzi. Però, fino a nemmeno, io ho fatto un video tre settimane fa, aveva un prezzo di 1 centesimo e 2, quindi comunque il prezzo sta salendo. E addirittura ne avevo fatto ancora uno prima, tre mesi fa, e dove il prezzo stava a 1 centesimo e 1. Quindi, della serie, è un progetto che chi arriva prima mi li alogia, ok? Quindi, valutatelo, ok? Ovviamente non sono le conseguenze di trading, e vi ricordo che è un progetto super, iper, mega dischioso. Io addirittura ne avevo parlato quando avevo raccolto 329 mila dollari, quindi avevo già accolto le antenne da parte vostra che mi stavate scrivendo di questo progetto, e anzi, se ne avete altri, scrivete pure, che insomma, andiamo letteralmente a visionarli, soprattutto questi più rischiosi, perché oramai ho aperto una vera e propria tematica, anche su questi progetti. Dopodiché, vi ricordo che l'arriving di Bitcoin sta per arrivare tra 74 giorni e 11 ore, e quindi, siamo lì, eh? E vi ricordo che comporterà un dimensamente offerto da 6.25 Bitcoin per i miners a 3.12. Quindi questo sarà un E tra P3 miliare che andrà ad aggiungere Bitcoin, e vedremo se andrà a favorire anche i miner di Bitcoin. Tendenzialmente, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che pre-Halving Bitcoin ha sempre scaricato, quindi vedremo se scaricherà nuovamente, e soprattutto vedremo se effettivamente andranno vita anche al lancio di Bitcoin Minetics. Infine, vi ricordo che se volete avere maggiori informazioni su questo progetto, potete seguirle su Twitter, ok? Comunque trovate tutto in descrizione, che vi lascio, basta andare sul sito, poi, insomma, cliccate qua, Twitter, Telegram, ce li avete tutti, ok? E qua danno le info, quindi se volete rimanere aggiornati su questo progetto, avete le info, avete anche le informazioni all'interno del gruppo Telegram, quindi se volete entrate, spulciate, vedete quello che stanno facendo letteralmente come progetto, in modo tale che vi confrontate, quindi mi sembra giusto, non andate a considerare su un video che trovate su YouTube, però cercate più informazioni possibili, perché per l'appunto sono progetti altamente rischiosi. Infine vi ricordo che se avete altri progetti, ok? Che volete che vado a selezionare, potete scrivermi su Instagram, su TikTok, su Telegram, andrò a selezionare quelli che sono i progetti del momento. E per questo, se è piaciuto questo video, ti ricordo di suggerire un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Hasta la vista, ombre!